Gioca il Sunday Special, con un monte premi garantito di 200.000 euro, solo sul più grande sito di poker in Italia. Tino qua ci siamo arrivati, adesso c'è proprio la storia classica per le imprese epiche. 6 milioni quasi, contro 680.000, ma noi che non vogliamo mai andiamo a vincere. Vamos a ganar, vamos! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!